eccoci qui ben trovati per il nostro appuntamento su instagram ormai praticamente settimanale nel quale ci raccontiamo tantissime cose abbiamo visto il mondo dei libri la scorsa settimana quella precedente abbiamo condiviso un po gli ascolti ecco in tutte queste dirette fatte durante il lockdown post lockdown pre lockdown eccetera eccetera abbiamo parlato veramente di un sacco di cosa abbiamo dato spazio a tantissime iniziative e abbiamo conosciuto anche insieme tante realtà importanti anche che collaborano con il mondo che ci sentiamo più vicino ovvero il mondo del punk rock e in generale del rock alternativo quello che non abbiamo mai preso praticamente in considerazione è quello che mi riguardava più da vicino quindi i gruppi le band e i progetti musicali non ne abbiamo parlato tanto perché credevo che fosse giusto dare spazio ad altre realtà che stavano realmente facendo e portando avanti una serie di iniziative quindi come al solito io ho preferito dare prima visibilità agli altri e poi solo in un secondo momento questo parlare di quello che mi riguarda un po più da vicino quindi tutte le realtà a me connesse in realtà quando si diceva che molte band si sono date da fare anche noi come undead non siamo stati completamente fermi ma innanzitutto dove eravamo rimasti dove eravamo rimasti il 28 di febbraio è uscito il nostro ultimo ep old bad gold su indie box data quanto mai poco fortunata quest'anno perché il 28 febbraio è stato il primo weekend senza live era un venerdì sabato 29 eravamo pronti a presentare questo disco con gli amici viboras con gli amici mad beat in una bella data a alle porte di milano tutto questo ovviamente non è successo ma che cosa posso dirvi che non siamo riusciti a raccontarvi in questi mesi beh innanzitutto che in questi mesi anche durante il lockdown non siamo stati fermi discograficamente quindi oltre all'uscita il 28 di febbraio di old bad gold proprio durante il lockdown abbiamo rilasciato a marzo un singolo dal titolo the government of fear questo singolo è stato molto importante per noi sotto due punti di vista principali il primo noi dovevamo partecipare come undead a amnesty in rock alla nuova edizione di questa piccola kermess musicale che ormai da anni organizzo insieme agli amici del mio gruppo di attivisti il gruppo 100 di milano dove si sensibilizza ovviamente sul mondo e la realtà dei diritti umani e si suona amnesty rock era arrivato alla sua ottava edizione doveva esserci questo concerto con noi ci sarebbero stati il garage orchestra e your war sofia ma ovviamente anche lì l'evento è stato ovviamente annullato e quindi noi abbiamo deciso comunque di mantenere la parola data agli amici di amnesty international e abbiamo rilasciato un brano the government of fear che proprio parla di diritti umani in maniera esplicita come già avevamo fatto con defend un brano di un paio di anni fa abbiamo voluto continuare avremmo voluto presentare quel brano proprio in quell'occasione ci sembrava giusto mantenere una promessa the government of fear per gli undead è diventato però anche il trade union con le attività di raccolta e fondi che ovviamente ci sono state su tanti versanti nel momento dell'emergenza sanitaria come sapete forse alcuni lo sanno altri no magari avete seguito i nostri post magari lo sentite adesso per la prima volta il nostro bassista giolaiena è medico lui è cardiologo e ha lavorato a contatto con il covid per moltissime settimane perché era stato chiusa la sua area di competenza perché era stata destinata proprio a chi aveva contratto il virus e ci ha suggerito visto che ovviamente era direttamente coinvolto di organizzare una raccolta fondi per il policlinico di milano struttura importante in una città che stava subendo in quel periodo lo sapete meglio di me un importante numero stava vivendo un numero molto importante di contagi milano bergamo soprattutto e quindi noi abbiamo voluto essendo di milano e avendo una persona come joe direttamente coinvolta su quello che è il settore dell'emergenza sanitaria abbiamo deciso di destinare i fondi di una raccolta che per noi è partita grazie agli amici di aboama inc e l'amico alberto bocca abbiamo realizzato un merchandise esclusivo legato proprio al singolo the government of fear e tutti i proventi sono andati proprio al policlinico di milano quindi noi non ci siamo ottenuti nulla ecco è stata una cosa che noi abbiamo fatto forse più a livello locale non è stata una cosa magari a livello nazionale ma credo che ognuno in questo poi correggetemi se sbaglio ma in questa emergenza abbia cercato di fare il possibile per aiutare innanzitutto il suo quartiere e poi la sua città poi eventualmente la regione hanno fatto dei lavori meravigliosi i ragazzi di bergamo quindi i ragazzi del punk rock raduno l'operazione con team time bomb eccetera e noi come undead abbiamo voluto fidandoci proprio del parere di chi lavora nell'ambito sanitario abbiamo realizzato questa campagna di cui poi abbiamo proprio qualche settimana fa dato gli ultimi ricavati al policlinico di milano ecco a differenza magari di altre campagne portate avanti da alcune band punk rock noi abbiamo tenuto la cosa un filino più privata non è stata particolarmente taggata o hashtaggata o condivisa volevamo che fosse una cosa un filino più più nostra anche se ovviamente su tutti i nostri canali abbiamo cercato di dare più spazio possibile all'operazione quindi che cosa è successo agli undead durante il lockdown questo quindi inizia il lockdown con la release di all bad gold e continua con la release del singolo government of fear ovviamente potete trovare anche un bellissimo lyric video realizzato proprio da alberto bocca il nostro grafico colui che ha realizzato tutte le copertine dei singoli di all bad gold e ovviamente anche quella del formato fisico il disco fisico se ancora lo volete se siete ancora fan dei cd lo potete acquistare direttamente dallo shop online di indie box quindi andate da quelle parti ovviamente troverete il modo per acquistare all bad gold mentre the government of fear perché far uscire un singolo perché qui l'ho detto in qualche intervista e adesso lo posso dire esplicitamente proprio in questa diretta old bad gold così come lo state intendendo consumando e eventualmente acquistando sotto forma di ep non è altro che metà di quella che era la produzione undead destinata al 2020 noi infatti con i ragazzi di indie box avevamo scelto di presentarci nuovamente sul mercato anche a fronte di questa nuova ritrovata collaborazione con loro prima con questo ep old bad gold e poi con un disco completo entro la fine dell'anno allora non abbiamo la sfera di cristallo non sappiamo che cosa succederà da qui ai prossimi settimane mesi in termini di ripresa di eventuale attività compreso quindi la ripresa totale anche delle attività promozionali e discografiche quindi non sappiamo al momento dirvi se effettivamente entro la fine del 2021 e 2020 pubblicheremo questo old bad gold extended non lo so non ha ancora un titolo ma quindi le più altrettante tracce che non avete mai ascoltato ci sarà the government of fear ma ci saranno anche altrettante tracce che non avete mai 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 sentito e sulle quali abbiamo lavorato un filino durante il lockdown e andremo a concludere poi tutto il lavoro nei prossimi mesi ma erano tracce che noi avevamo già registrato e scritto nella fase di composizione di old bad gold quindi sono state registrate la maggior parte della sessione ritmica ad esempio è stata registrata insieme a old bad gold poi ovviamente sono uscite soltanto sei canzoni adesso ne abbiamo tante altre in quei brani c'è tantissimo di quello che è il mondo undead ci sono brani anche forse un filino più leggeri brani molto arrabbiati brani che parlano delle tematiche a noi care brani che sviluppano il tema principale di old bad gold quindi il tempo passato presente futuro se ne se ne parla molto ci sono delle operazioni particolari all'interno di quei brani delle collaborazioni interessanti delle quali non posso ancora dirvi nulla ma che sicuramente vi dovrebbero lasciare abbastanza contenti se siete già fan degli undead e del loro mondo e dei gruppi vabbè vabbè basta 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 sto dicendo già troppo poi dopo mi sgridano ecco quindi c'è tutto un secondo ep chiamiamolo che andrà a concludere un album completo praticamente già pronto praticamente lì che vi attende dobbiamo soltanto capire anche con gli amici di Indiebox quando sarà il momento più opportuno per rilasciarlo perché effettivamente abbiamo visto che nella prima fase del lockdown c'era magari un po' di attenzione in più anche a diverse release adesso che si è tornati un po' alla vita se tu rilasci qualcosa ma poi non hai modo di promuoverlo c'è il rischio che veramente nessuno lo consideri quindi dobbiamo fare questi calcoli queste considerazioni per cercare di dare di far arrivare a tutti veramente quello che è il nostro prodotto e il nostro messaggio quindi chiusa direi parentesi undead undead che tra l'altro non stanno neanche provando in questo momento perché siamo un po' dislocati per questioni familiari di smart working o quant'altro abbiamo Macca che è a Imola, abbiamo Gianluca che è centro-sud Italia e si stanno occupando delle loro cose, delle loro famiglie Verona ha rilasciato anche due singoli durante questo lockdown del suo progetto quindi andateli a vedere perché sono un prodotto molto valido tra l'altro il prodotto è registrato in Attitude Studio e quindi per questo motivo non abbiamo neanche proprio fatto le prove non siamo tornati in sala prove come sono tornate molte band siamo tornati in sala prove però con il progetto Rebel Poets perché? Perché il progetto Rebel Poets avrà come è stato annunciato in questi giorni sia da Indiebox che dai miei spazi avrà delle piccole derivazioni live il prossimo mese quindi ad agosto infatti il 15 a ferragosto suonerò con Lorena Vezzaro quindi sarà un duo acustico in una situazione acustica a Ravenna, lo Ziggy Bar e con noi ci saranno anche Dani, porno rivista Yoko Ano di Shandon e i amici Drive Me Dead credo quasi totalmente in acustico tutte le formazioni forse i Drive Me Dead che sono local faranno qualcosa di un filino più elettrico non lo so, può darsi che invece la formazione sia acustica per tutte le realtà che verranno presentate in questo contesto una bella situazione, Ziggy Bar dalle parti di Ravenna poi ovviamente seguendo i social troverete tutte le informazioni se siete da quelle parti per il ferragosto veniteci a trovare perché è uno dei pochissimi concerti che faremo anche un po' tutti insieme con la famiglia, con parte del roster indie box quindi sarà una bella occasione la settimana seguente, infatti il 22 di agosto suonerò sempre con Lorena, quindi sempre duo acustico al Vociodromo di Vicenza centro sociale che sta ospitando tutta una serie di performance acustiche anche in questo periodo ci è andato l'amico Gab della Vega ci andranno tanti altri artisti noi ci saremo sabato 22 toccate fuga perché poi si ritorna a Milano in quanto Attitude Studio comunque non ha chiuso il progetto Attitude Studio è ancora assolutamente attivo ci sono delle produzioni che abbiamo iniziato durante il lockdown ci sono delle nuove produzioni che stiamo portando avanti adesso e ci sono anche delle band che pian pianino stanno tornando a registrare da noi quindi siamo contenti ovviamente di poterli seguire li seguiamo molto da vicino io posso seguirli ancora più da vicino rispetto alla normalità diciamo perché ovviamente ci sono meno cose da fare quindi ho più tempo da dedicare allo studio oltre ovviamente a Virgin Radio Virgin Radio avete visto non si è mai fermata le dirette sono sempre proseguite a volte eravamo divisi a volte eravamo insieme a volte in smart working dalla prossima settimana Virgin Generation si prende una pausa per tornare poi a settembre e come ogni estate torna Sunset in Rock l'appuntamento con il tramonto Rock su Virgin Radio le prime settimane saranno coperte da Alteria e le successive invece andrò a coprirle io quindi mi raccomando vi terremo compagnia non abbiamo mai smesso continueremo a farlo la radio è stato comunque giudicato come bene primario e quindi noi ovviamente abbiamo rispettato e portato avanti il nostro prodotto senza mai mancare di nulla senza mai togliervi una diretta infatti faccio i complimenti a tutta la squadra di Virgin per essere stata così attiva e così puntuale in questo momento di difficoltà alcuni dalle parti più strane del mondo altri dislocati in Italia però insomma vi abbiamo sempre regalato la grande musica di Virgin vi abbiamo sempre dato tante notizie quindi insomma condivido questo bel risultato con i miei colleghi quindi saluto Gianni Basilio che dice Virgin Radio è vita grazie, grazie, grazie noi cerchiamo ovviamente di fornirvi sempre il prodotto migliore possibile proprio perché sappiamo che in questo momento c'è poca musica in giro ci sono ancora pochi live e soprattutto non ci sono i live ai quali eravamo più affezionati noi di Virgin quindi grandi concerti grandi festival Firenze Rocks, High Days, eccetera ci saranno il prossimo anno ma ovviamente siamo rimasti un po' scottati ovviamente da questi eventi mancati quindi vi diamo la buona musica Ciao Andrea dove è possibile trovare il testo di punk rock Save My Soul? allora dovrebbe essere su YouTube nella descrizione del video se la apri se così non fosse vado ad aggiungerlo praticamente appena finisco la diretta perché di solito anche per i brani degli Undead noi il testo lo mettiamo sempre perché per noi il testo è super importante nel caso non ci fosse mea culpa chiedo scusa vado ad aggiungerlo veramente è finita la diretta quindi ecco torneremo a suonare anche queste canzoni punk rock save my soul che fa parte ormai del repertorio della band che è diventata Andrea Rock and the Rebel Poets dallo scorso agosto è stato il debutto di questo nuovo nome line up che poi è cambiata nei mesi e con loro vi dicevo abbiamo continuato le sale prove anzi abbiamo ripreso proprio qualche settimana fa siamo ritrovati tutti e cinque è stato un momento molto emozionante per me perché ho scoperto anche quanto la sala prove mi mancasse come concetto come idea come momento anche di sfogo e in realtà dopo la prima scaletta si è subito trasformato in un momento di produttività perché perché con la line up completa dei Rebel Poets è stato confermato il nostro impegno per sabato 12 settembre a Busto Folk Busto Folk è una manifestazione meravigliosa che esiste da tantissimi anni tra Milano e Varese ovviamente a Busto Arsizio con i nomi più importanti del mondo celtico interceltico come amano definirlo quindi i grandi protagonisti di quello che è il mondo del del folk del rock e ovviamente della musica tradizionale noi ci saremo quest'anno per me sarà la seconda volta sul palco di Busto Folk ma sarà la prima con una line up completa nel senso che la prima volta ci eravamo esibiti in formazione acustica con Davide Pascali Salcaone con Lorena Vezzaro al violino quest'anno avrò modo di portare tutti i Rebel Poets con questa nuova line up che aveva debuttato il primo di febbraio e che poi era pronta a regalarvi le performance di St. Patrick e quant'altro ma ovviamente sono saltate avevamo tante date con gli amici di di Irlanda in festa eccetera speriamo di recuperarle nei prossimi mesi se no il prossimo anno e perché vi parlo di Rebel Poets e dico il prossimo anno perché se ancora resta valida la teoria che si diffuse proprio durante il lockdown è probabile che i concerti così come siamo abituati a viverli quindi con la gente vicina potrebbero tornare eventualmente a marzo non sono dati ufficiali non prendeteli come oro colato sono voci che girano semplicemente quindi se i concerti quelli movimentati così chiamiamoli torneranno a marzo a marzo sarebbe utile uscire con il disco Andrea Rock and the Rebel Poets quindi con tanti brani inediti ai quali abbiamo lavorato in queste settimane sarà un disco molto 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 legato non solo all'Irlanda che voi direte facile l'avevi già fatto con i Bernofil a doppia mandata perché non solo si parlerà di Irlanda ma si parlerà di Irlanda attraverso libri racconti storie che faranno proprio da vademecum in tutto quello che sarà lo sviluppo del disco quindi sarà un disco totalmente dedicato alla terra che amo alle sue storie anche le più crudeli anche le più difficili anche le più brutte così come le più belle ci saranno quindi ovviamente tante parti dedicate allo strumentale tradizionale con una line up come quella che abbiamo adesso pestiamo anche un filino di più quindi i fan di Flogging Molly Dropkick Murphys avranno ovviamente di che ritenersi soddisfatti probabilmente rileggeremo anche qualcosa che era già stato pubblicato come è successo per punk rock say my soul mi citavate questo brano può darsi che ci sarà una rilettura nel disco per quanto riguarda quella canzone alla quale io sono particolarmente legato e che era uscita su Ammonia Records su un EP che adesso è abbastanza introvabile quindi ci piacerebbe dargli eventualmente una seconda occasione di visibilità per essere presente su un prodotto discografico che poi potrete acquistare ovviamente la volontà mia il desiderio sarà quello di portare tutto questo in formato anche vinile vedremo con gli amici di Indiebox se sarà possibile creare questo tipo di supporto però abbiamo scritto già tanti brani ne abbiamo già arrangiati i testi sono pronti al 50% quindi i soggetti sono già tutti lì bisogna semplicemente soltanto riordinare le idee per chiudere magari gli special le strofe però ecco sarà un disco per me molto importante rispetto a Influences che era alla fine l'ultima fatica come solista e This Is Home che era invece l'EP fatto con disco realizzato con Nicholas Johnson diciamo che sarà marcatamente più Irish folk Irish punk chiamatelo come volete vi piacerà vi piacerà questo ve lo posso ve lo posso garantire visto che ormai ho capito un po' i vostri gusti e so che Vlogging Dropkick sono tra le vostre nelle vostre playlist quando si parla della Terra di Smeraldo però ovviamente ci saranno anche tante altre cose io ascolto tanto di quello che proviene da quelle da quelle parti se mi avete visto in questi in questi giorni ho appena finito di leggere una bellissima biografia che racconta la storia dei Pogs band che io ho sempre adorato che ho visto dal vivo soltanto due volte nelle due occasioni italiane quindi nel 2014 all'Arena Joe Strammer e nel 2009 quando abbiamo addirittura condiviso lo stesso palco era uno dei primi live importanti degli Undead c'erano loro c'erano i Social Distortion i Foggin Molly i Gaslight Antem insomma Gogol Bordello fu un concerto indimenticabile un rock in idro pazzesco quindi ecco i Rebel Poets sicuramente rilasceranno qualcosa di nuovo di inedito con la volontà di darvi un disco completo a marzo ovviamente in occasione di St. Patrick come deve essere come ho sempre fatto per quanto riguarda le canzoni legate alla Terra che amo in realtà anche in questo 2020 non ho lasciato che St. Patrick passasse senza un brano rilasciato apposta per l'occasione e infatti era arrivato lo strumentale Farewell to Erin con Lorena che faceva veramente la parte della Leonessa con ovviamente il suo violino tradizionale bellissimo che abbiamo riarrangiato in chiave un po' più folk punk e che abbiamo portato in giro già anche l'estate scorsa con Angelo Merico e Davide Pascalis adesso nella versione che potete ancora ritrovare su Spotify la batteria è suonata da Mattia Giambini che è un mio carissimo amico quindi insomma non vi ho lasciato da soli a St. Patrick ma il prossimo che dovrebbe essere un St. Patrick finalmente da festeggiare e da suonare e da ballare insieme dovrebbe arrivare probabilmente il disco dei Rebel Poets io non so quanto si possano arrabbiare gli amici di Indiebox che sto spoilerando un po' tutte queste cose però in realtà non sto dando delle date non sto dando dei titoli vi sto solo dicendo che il materiale c'è quindi c'è materiale undead per un disco completo quindi se vi è piaciuto Old Bud Gold preparatevi perché arriva materiale altrettanto forte anzi forse di più poi arriverà il disco dei Rebel Poets qualche singolo probabilmente lo anticiperà ma poi marzo 2021 speriamo di tornare on the road anche con questo nuovo prodotto discografico Punk Goes Acoustic progetto che adoro che amo siamo stati in grado di fare un evento con Vanni Oddera un evento di mototerapia al quale abbiamo partecipato con alcuni membri del del progetto PGA è stato bellissimo è stato Buster Sizio proprio nella stessa location che ospiterà Buster Folk a settembre perché alla fine sono tutti i cerchi che si chiudono è stato un bellissimo evento ringrazio Vanni per averci invitato nuovamente torneremo ovviamente con gli eventi targati PGA nel 2021 ma se riusciamo anche nel 2020 con quella che sarà la release ufficiale di Punkability il DVD che racconta la storia dell'isola che non c'è in studio a registrare la loro versione di Blizzard Pop dei Ramones c'era stata la possibilità di vederlo in anteprima in alcune occasioni ma non c'è mai stato il supporto fisico sta arrivando abbiamo avuto qualche problema poi c'è stato il lockdown adesso ce la facciamo quindi ancora grazie agli amici di Rude Records che andranno a stampare il prodotto fisico e agli amici di Macete Manuel Erratone Antonio Zappadu e Filippo Vano per aver aiutato me e Edo Rossi nella costruzione di quello che forse è stato uno dei momenti più belli della mia vita come musicista appassionato di punk rock quindi arriveremo anche con il punk osacoustic e quando il supporto fisico ci sarà avrà senso per noi tornare finalmente a suonare dal vivo ovviamente come sempre a cachet zero per quanto ci riguarda donazioni solo ed esclusivamente per l'isola che non c'è che non abbiamo lasciato da solo in questo periodo gli amici dell'isola erano con noi a Busto Arsizio per l'evento di mototerapia e si sono divertiti un sacco abbiamo realizzato dei video per loro li abbiamo mandati e abbiamo cercato di tenere di compagnia e lo faremo ovviamente ancora a settembre se non avremo la possibilità di andare fisicamente in sede da loro a divertirci un po' tutti insieme quindi direi di aver toccato un po' tutte le realtà certo il clubbing ecco la realtà che ci manca in maniera ufficiale e che non ha perlomeno per quanto mi riguarda avuto neanche la proposta di una sorta di idea di ripresa voi sapete che sono DJ resident al Dirty Mondays di Milano serata itinerante di solito nell'estivo ovviamente tutto fermo non siamo riusciti a chiudere la stagione non siamo riusciti a organizzare il tour estivo ma torneremo ovviamente è la serata rock più bella di Milano lo dico con senza falsa modestia perché è una serata rock dove ascoltate sì gli ACDC Linkin Park ma ascoltate anche gli Interruptors l'ultima dei Biffi Clyro e tante altre band di nuova generazione quindi è una serata per tutte le età è una serata del lunedì è una serata dove ci si diverte basta che facciate un giro sulle mie pagine sia Instagram che Facebook per vedere un po' di foto del Dirty Mondays ci manca ci manca io mando con questo video un saluto virtuale un abbraccio gigantesco a Paolo e a tutta la crew di Dirty Mondays che al momento è a spasso ovviamente si stanno occupando di altro ovviamente come è normale che sia ma non vediamo l'ora di tornare a farvi ballare a farvi divertire per questi lunedì notte che poi pagate ovviamente il martedì mattina perché siete un filino più affaticati ma vi siete divertiti quindi tornerà ovviamente anche Dirty Mondays c'è la voglia di tornare a fare festa con tutti voi quindi allora le band le abbiamo viste il clubbing l'abbiamo citato la radio l'abbiamo detto quindi la settimana prossima Sunset in Rock con Alteria poi arriverò anch'io a ricoprire questa trasmissione dedicata al Tramonto Rock su Vergi Radio Benefit ne abbiamo parlato lo abbiamo fatto con gli Undead continuano le attività di sensibilizzazione come attivista del gruppo 100 di Milano e quindi continuano anche le attività di Amnesty continuiamo a condividere degli appelli da firmare quindi mi raccomando fatelo perché se è vero che c'è stato un momento di importante presa di coscienza sociale potete continuare a fare la differenza con due click in 20 secondi potreste salvare delle vite quindi al di là degli hashtag potete veramente fare la differenza quindi non dimenticatevelo abbiamo passato mezz'ora insieme grazie mille ai amici che mi hanno seguito e ovviamente ci rivediamo se avete voglia sul palco del 15 di agosto del 22 di agosto quindi Ravenna Vicenza e poi Busto Folk a settembre per il resto dobbiamo tenere soltanto le dita incrociate e aspettare un grande graditissimo ritorno on stage di agosto di agosto Grazie a tutti.